O voi che siete due dentro ad un fuoco, se io meritai di voi mentre che io vissi, se io meritai di voi assai o poco quando nel mondo gli alti versi scrissi, non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi, mormorando pur come quello cui vento affatica. Indi, la cima qua e la amenando, come fosse la lingua che parlasse, gitto voce di fuori e disse, quando mi ripartì da Circe che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che Sienea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pieta del vecchio padre, nel debito amore lo qual dove a Penelope far lieta vince il potero dentro a me l'artore che io ebbi a divenire del mondo esperto e di rivizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi in fin la Spagna, fin nel Morrocco e l'isola di Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già mi avea lasciata setta. Oh frati, dissi, che per centomiglia perigli siete giunti all'Occidente a questa tanto piccola vigilia di nostri sensi che è del rimanente. Non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza. I miei compagni feci così aguti con questa orazione piccola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino dei remi facemmo ali al folle volo sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte e nostro tanto basso che non sorgea fuor del mar in suolo. Cinque volte era acceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna poi che entrate eravamo nell'alto passo quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. tre volte il fe girar con tutte l'acque alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù come altrui piacque infinché il mar fu sovra noi richiuso. la bocca sullevò dal fiero pasto quel peccator forbendo la capelli del capo che gli aveva di retro guasto poi cominciò tu occhio rinovelli disperato dolor che il cor mi preme già pur pensando priacchio nei favelli ma se le mie parole esser di insieme che frutti infami al traditor che rudo parlar e lacrimar vedrai insieme io non so chi tu sei né per che modo venuto sei qua giù ma fiorentino mi sembri veramente quanti ho toto tu devi saper chi fui conte ugolino e questi è l'arcivesco volgeri or ti dirò perché i son tal vicino che per l'effetto dei suoi mai pensieri fidandomi di lui io fossi preso e poscia morto dir non è mestieri però quel che non puoi aver inteso cioè come la morte mia fu cruda udirai e saprai se m'ha offeso breve pertugio dentro dalla muda la qual per me ha il titolo della fame e che conviene ancora che altrui si chiuda ma aveva mostrato per lo suo forame più lune già quando io feci il mal sonno che del futuro mi squarciò il velame questi pareva a me un maestro e donno cacciando il lupo e i lupicini al monte perché i pisani veder lucca non bonno con cagne magre studiose e conte gualandi con sismondi e con lanfranchi s'avea messi dinanzi dalla fronte in picciol corso mi parirono stanchi lo padre e i figli e con la cute scane mi parea lor veder fenderli fianchi quando fui desto innanzi alla dimane piangere senti fra il sonno i miei figlioli che erano con me e di mandarte il pane ben sei crudel se tu già non ti duoli pensando a ciò che il mio corso annunziava e se non piangi di che piangere suoli già erano desti e allora s'appressava che il cibo ne solea essere addotto e per suo sogno ciascun dubitava e io sentii chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre ondì guardai nel viso miei figlioli senza far motto io non piangea si dentro impetrai piangea nellì e anselmuccio mio disse tu guardi sì padre che hai perciò non lacrimai ne rispuosi io tutto quel giorno nella notte appresso infin che l'altro sol nel mondo uscìo come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso ambo le man per lo dolor mi morsi ed ei pensando che il fessi per voglia di malicar di subito levarsi e disse padre assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi tu ne vestisti queste misere carne tu le spoglia quei t'ami allora per non farli più tristi e l'odì e l'altro stiamo tutti muti ai dura terra perché non t'apristi poscia che fumo al quarto di venuti gatto mi si gittò di steso piedi dicendo padre mio che non mi aiuti qui mi morì e come tu mi vedi mi dio cascarli tre ad uno ad uno tra il quinto di e il sesto un dio mi diedi già cieco a brancolar sopra ciascuno e due di li chiamai poi che fur morti poscia più che il dolor poter il digiuno quando ebbe detto ciò con gli occhi torti ripresi il teschio misero codenti che furo all'osso come d'un can forti voi non so se lo vedete ma sta piangendo è proprio calato nella parte facciamolo uscire da ugolino altrimenti lei piange lo dobbiamo presentare non l'abbiamo ancora presentato entrato con un cu de teatro è Ivano Marescotti ecco lei è un nome importante sulla scena italiana ma anche internazionale ha lavorato ha recitato in oltre 50 film ho letto e anche con molti di più allora su Wikipedia sono indietro si è indietro internet è rimasto a 10-15 anni fa non è così moderno allora internet io comunque so che lei ha lavorato sempre con registi di primaria importanza due premi Oscar abbiamo Antoni Minghella abbiamo Ridley Scott ma poi Benigni Pupia Vati insomma Ridley Scott qui ho lavorato ce lo dica qui dentro proprio in questo salone io ho girato Hannibal 10 anni fa 10-11 anni fa e da loro non ci avevo messo piede in questo meraviglioso posto e qui hanno ammazzato mio fratello che era Gifuni che fa parte Fabrizio Gifuni che Anthony Hopkins l'ha proprio sgozzato qua tanto per stare nell'ambiente un po' drammatico tragico della situazione e poi dopo siamo tutti gli attori italiani in quel film sono morti a Firenze io solo sono andato a morire in America in solitudine cioè lui li ammazzava tutti insomma e beh insomma era il suo ruolo ringraziamo Ivano Marescotti la inviterei ad accomodarsi in platea perché poi tornerà a recitare per noi ma li lasciamo qui li lasciamo qui fanno parte dell'arredo il gesto dell'attore